amici di le fonti tv ben trovati a un nuovo appuntamento con le fonti agora marketing il nostro format esclusivo dedicato a tutte le novità del mondo del marketing e alle principali innovazioni che lo riguardano e soprattutto in un momento di mercato in continua evoluzione un mercato che è già profondamente cambiato proprio per ciò che è accaduto per i cambiamenti esterni che hanno interessato tutti noi che hanno interessato il mondo del lavoro di conseguenza le strategie di business si sono profondamente modificate pensiamo quando si parla di marketing e oggi parleremo nello specifico modo del ruolo delle agenzie come è cambiato il modo di lavorare di approcciarsi quindi di conseguenza al pubblico di riferimento e ne parleremo con francesco ricca donna che mi ha raggiunta in studio ben trovato general manager di wave maker grazie per essere con noi allora francesco direi di fare una bella introduzione proprio per spiegare al nostro pubblico sulla condizione delle agenzie di mercato per capire un po lo stato dell'arte mettiamola così dare una fotografia per poi addentrarci nei singoli riferimenti che abbiamo dato come premessa senz'altro ma partirei dicendo che questo è un mondo quello delle agenzie che ha subito una trasformazione enorme e sostanzialmente un big bang dovuto al ovviamente alla trasformazione digitale che è venuta negli ultimi 15 anni consideriamo che praticamente lo spending pubblicitario è passato da un 10 per cento una quindicina di anni fa sul totale dello spending delle aziende oggi sfiora il 50 per cento che più chi meno quindi questo spiega il tipo di evoluzione che c'è stata e questa evoluzione soluzione sostanzialmente ha preso due direttive dal mio punto di vista da un lato ha creato una un'offerta che non esisteva lo spazio per un'offerta che non esisteva perché pensiamo a settori che sono stati completamente nuovi rispetto ad anni fa come il settore del content piuttosto che il settore del tech questo è uno spazio che ha generato un'offerta proprio di agenzie che prima non esisteva dall'altro canto esiste anche un altro fattore trasformativo dovuto al digitale che ha riguardato proprio le agenzie già esistenti perché sostanzialmente il digital ha creato come una sorta di terza dimensione per cui accanto alle agenzie media piuttosto che alle agenzie di creatività che già esistevano si è creata un'offerta di agenzie specialistiche sulla creatività sul media ma in area digital quindi il combinato disposto di queste due forze che ho appena citato ha fatto in modo che questo mercato esplodesse nella sua dimensione nella sua complessità accanto a queste agenzie c'erano già anche in passato le agenzie in area per esempio di consulenza strategica e quindi è un mercato che è andato aumentando tantissimo la sua dimensione la sua frammentazione e anche la complessità poi se metto dal lato del cliente nell'effettuare delle scelte nella logica di partnership su chi andare a identificare come proprio appunto agenzia partner in questo mercato che si è generato Infatti il giocetto di spazio è molto interessante perché noi abbiamo assistito effettivamente seguendo quello che ci stai raccontando tu dapprima a una diminuzione dello spazio e di possibilità però questa diminuzione di spazio e possibilità è diventata poi in realtà un'aggiunta a quello che già c'era e che è tornato in un secondo tempo quindi insomma avete dovuto prendere le misure con questo nuovo modo di rapportarsi alla realtà Assolutamente poi ovviamente come sempre in questi casi qua si generano anche delle opportunità io dico sempre se guardo a quello che era il lavoro che faceva un'agenzia un decino o quindicina di anni fa oggi è cambiato sostanzialmente quindi l'opportunità che vedo per noi come agenzia ma penso che valga anche per tutte le altre agenzie sul mercato è quella di espandere proprio il territorio dove operiamo e anche il percepito che abbiamo nei confronti dei nostri clienti oggi io credo che il termine agenzia rifletta poco quello che facciamo per i nostri clienti siamo più diventati una società di consulenza se vogliamo così come pure è successo che le società di consulenza in parte hanno cominciato a entrare nel nostro territorio per cui direi che l'effetto molto evidente di questa esplosione digitale che c'è stata in questi anni è un'ibridazione proprio anche dei formati delle agenzie Assolutamente, è facile comprendere come davvero la situazione sia cambiata quando accade magari non ce ne rendiamo subito conto ma è quando ci si confronta poi con tante altre realtà che ha il percepito di cui parlavi tu che tutto emerge nella sua complessità anche e a questo punto la domanda sorge spontanea Francesco ovviamente in un contesto che cambia di lavoro cambiano anche le persone cosa intendo dire? Cambiano le competenze quello che le persone al lavoro si trovano a fare quali sono le figure professionali che si sono sviluppate e che hanno costituito anche un cambiamento rispetto al passato? Per capire un po', per rispondere a questa domanda secondo me è anche un po' necessario capire come è cambiata anche la qualità delle cose che facciamo storicamente l'agenzia si è sempre trovata a operare in un sistema abbastanza lineare io prendo un brief, cerco le informazioni per rispondere a questo brief arrivo a un insight, sviluppo la strategia conseguente e poi pianifico sui mezzi questo processo di lavoro è sempre stato questo è tutto sommato e questo anche oggi quello che è cambiato rispetto al passato è che si è fatta straordinaria la complessità soprattutto in testa e in fondo a questo processo perché l'evoluzione tecnologica ha fatto sì che queste due fasi del lavoro siano diventate molto più complicate in testa al processo intendo quando noi andiamo a selezionare le informazioni oggi abbiamo a che fare con dati di prima, seconda, terza parte e quindi la complessità di fare questo mestiere è aumentata straordinariamente in fondo al processo stessa cosa anche se l'ambito è diverso oggi per pianificare bisogna utilizzare le tecnologie bisogna pianificare in maniera come si dice seamless attraverso l'online, l'offline per garantire efficacia, efficienza e quant'altro quindi in testa ancora nel processo si è complicata tantissimo la modalità del lavoro in mezzo è successo un'altra cosa il mezzo è un po' diventato anche qui mutuo un termine abbastanza ricorrente adesso dal punto di vista di marketing in messy middle nel senso questo territorio del mezzo pensiamo all'area dei contenuti per fare un esempio oggi non ha più un owner così chiaramente identificabile come in passato oggi il contenuto si può approcciare dal lato dell'agenzia di creatività, si può approcciare dal punto di vista media si può approcciare dal punto di vista strategico quindi chi è che governa? quindi anche questo ha creato una complessità nel sistema e adesso torno alla domanda in questo contesto quali sono le figure professionali che si stanno sviluppando? io direi che sono di tre tipi fondamentalmente la prima è tutta l'area delle competenze digitali non serve a san dir che il mercato oggi richiede sempre di più per via dell'enorme incremento di investimenti lato domanda e questo ha determinato sostanzialmente che alcune figure che oggi sono abbastanza come dire già esistenti non sono figure straordinariamente nuove sul mercato vedi il lato content per esempio i content creator i social media manager per parlare dei content dall'altra parte possiamo avere per esempio i personaggi di estrazione digitale come i programmatic specialist bidable specialist queste figure qua c'erano già sul mercato ma oggi la domanda è talmente forte che letteralmente vanno a ruba questo anche perché poi nelle aziende cosa succede? che in questo momento stanno cercando di internalizzare queste figure e quindi queste sono figure che vanno ancora più a ruba oltre a questa tipologia di figure direi che ci sono e ancora più richieste le figure in area tech per via di questa complessità tecnologica che vi facevo riferimento prima che sono anche esse straordinariamente richieste anzi lo sono quasi di più perché l'evoluzione tecnologica che c'è stata è stata talmente rapida che quasi il sistema non è stato in grado di produrre competenze in maniera sufficientemente veloce per star dietro a questa domanda domanda offerta non è sempre la solita regola quindi si è dovuto correre un po' di più mi pare di capire rispetto e aggiungo a queste invece e queste sono abbastanza diciamo si parla di evoluzione digitale è abbastanza logico che ci sia questo tipo di dinamica della domanda e dell'offerta un po' meno evidente è la terza tipologia di figure che noi vediamo diventare sempre più importante è una domanda quasi latente oggi ma che io credo che si manifesterà sempre di più nel prossimo futuro che è quella delle figure che fanno della progettualità la propria capacità principale sono quelli che noi chiamiamo i T-shaped con le persone che nascono con una competenza verticale forte ma la quale poi sommano la capacità di gestire una complessità queste figure sono destinate a crescere in termini proprio di domanda del mercato in maniera drammatica perché l'istanza di semplificazione del mercato è sempre maggiore aumenta la complessità i clienti hanno bisogno di qualcuno che gli aiuti a gestirla quindi io credo che nel prossimo futuro anche se adesso il focus è sulle risorse di provenienza digitale o tecnica ci sarà una fortissima richiesta di persone con queste caratteristiche assolutamente sì quindi questa è un po' l'importanza delle competenze bello sapere che insomma la corsa per riuscire a riempire gli spazi è iniziata certo abbiamo dovuto magari accelerare un po' di più rispetto al punto di partenza l'importanza delle competenze quindi quelle che già avevamo ma quelle che dobbiamo acquisire ecco che gap c'è ancora tra questi due è una domanda un po' marzuliana mi rendo conto però è importante per capire quanto riusciamo e riusciremo a stare al passo con le evoluzioni di cui parlavamo all'inizio certo ma è ovvio che oggi non basta avere delle competenze direi che è quasi più importante avere la capacità di sviluppare queste competenze questo perché è un mercato è un mondo che va talmente veloce che la competenza specialistica dura pochissimo quello che impariamo oggi domani è già caduto per intenderci sappiamo che nel giro di cinque anni il nostro mondo che è già nel pieno di una trasformazione importantissima e velocissima si sarà trasformato completamente sarà completamente digitalizzato quindi io credo che oggi sia importante e quello che cerchiamo nelle persone fondamentalmente sono tre cose una è una flessibilità molto forte perché bisogna essere in grado di muoversi in continuazione cercare nuove competenze come dicevo prima sviluppare nuove competenze questo è sostenuto dalla curiosità che è la seconda caratteristica e poi non deve mancare una terza caratteristica che dal nostro punto di vista è anche l'attitudine a usare ecco questa è una cosa molto importante noi ci stiamo lavorando con le nostre persone tantissimo ci lavoriamo in termini di formazione sicuramente perché come dicevo prima dobbiamo fare in modo che le persone si digitalizzino che apprendano queste competenze anche di progettualità di managerialità che non sono così scontate e questo vale anche per le persone di estrazione digitale cerchiamo di metterle nelle condizioni di essere il più possibile in una situazione dove lo scambio di competenze sia reso facilitabile facilitato di solito queste situazioni qua sono le situazioni di gara per esempio in cui noi cerchiamo di smontare montare i team fatti di competenze diverse e quindi sostanzialmente fare in modo che ci sia quasi una contaminazione sistematica in modo che le persone apprendano una dall'altra e ultimo ma non ultimo cerchiamo di lavorare il più possibile nel creare una cultura dell'usare in Waymaker noi abbiamo un mantra che si chiama positive provocation e sostanzialmente vuol dire avere la capacità di alzarsi dire la propria opinione con coraggio in maniera positiva questo ovviamente presuppone che ci sia una cultura dell'errore cioè la capacità di poter accettare che l'errore diventi un fattore quasi di miglioramento più o meno sono due aspetti assolutamente capire l'errore rispettarlo e ovviamente superarlo esatto e questo è una caratteristica se volete un po' soft ma che per noi è importantissima e lo è a maggior ragione in un momento in cui si parla di Great Resignation che colpisce soprattutto i pubblici giovani le persone di giovane età perché non trovano più quella identificazione valoriale nel lavorare in un'azienda che noi forse avevamo di un'altra generazione precedente quindi per noi è importante offrire dei modelli valoriali che siano magari un po' selettivi come questo appunto della positive provocation ma sicuramente anche fortemente identificativi insomma diciamo che dobbiamo uscire dalla comfort zone a 360 gradi esatto abbandonare le resistenze e osare e soprattutto capire che ci dobbiamo approcciare in modo diverso magari alle stesse cose che facevamo prima infatti ti stavo chiedendo insomma come vi muovete come agenzie quali ritenete siano i requisiti fondamentali sono questi che mi hai detto flessibilità curiosità osare io li ho riassunti in questo modo però credo che si possa partire da qui a questo punto visto che stiamo parlando anche di innovazione soprattutto di innovazione e modi diversi di lavorare mi piacerebbe farti una domanda e approfondire il tema legato al metaverso cioè quali sono secondo voi vedi sapevo che in qualche modo te l'aspettavi questa domanda ma in qualche modo se l'aspettavano sicuramente anche i nostri telespettatori perché se ne parla sempre di più però visto che abbiamo parlato di errore spesso si fa l'errore di parlare di qualcosa e di non conoscerla a fondo visto che hai accennato anche alla formazione che è necessaria secondo voi quali sono le competenze imprescindibili per affrontare questa nuova sfida io la vorrei definire anche così anche quelle che devono essere ancora sviluppate e intorno alle quali vi state muovendo ecco ma che sa è una domanda complicata perché perché il metaverso adesso non si può fare una discussione senza parlarne perché è un po' il talk of the town quindi in questo momento se ne parla tantissimo molti pensano che sia una bolla per noi non è una bolla il metaverso è proprio il web 3.0 e la prospettiva evolutiva sì perché ovviamente se ne parla anche perché insomma il metaverso in questo momento ha un immaginifico abbastanza chiaro i monoculus il 3D eccetera ma probabilmente c'è di più dietro questa cosa quindi rispondere a questa domanda è complicato perché è come fare proprio una previsione su quelle che saranno le linee evolutive proprio del web 3.0 però provandoci io direi che ci sono tre aree soprattutto pensando in una logica di competenze che poi saranno necessarie per andare avanti in questo mondo ci sono tre aree che secondo me andranno a svilupparsi la prima che è un po' quella più evidente è un po' quella esperienziale cioè il metaverso come se vuoi piattaforma real time 3D persistente di relazione fra le persone e fra le marche e le persone questa è un po' l'area più vicina anche a quello che facciamo l'area un po' più inerente alla comunicazione e al marketing e da qua secondo me ci sarà l'evoluzione verso delle professionalità che hanno a che fare con lo storytelling che hanno a che fare con la gestione dei contenuti con la gestione l'event management proprio quindi qualcosa che esiste già probabilmente è che è destinato a svilupparsi io credo che il serbatoio preferenziale di queste competenze sia oggi nel milione e mezzo credo di influencer creator che già esistono oggi in Italia e che probabilmente sono gli evangelisti ideali che porteranno il messaggio in giro certo almeno per quest'area poi c'è un'area molto più tecnica che è inerente quella che è l'infrastruttura sottostante del metaverso cioè su cosa si regge e qui i mondi sono diversi cioè non c'è soltanto la costruzione della piattaforma virtuale che sostiene l'ambiente metaverso e quindi qua per esempio vengono in mente tutte le competenze relative ai 3D architects o designer o quant'altro c'è tutta la parte di costruzione grafica legata al mondo degli NFT per esempio e qui ci saranno sicuramente uno sviluppo una richiesta molto forte di art designer in questo senso e poi c'è la parte ancora più tecnica che è quella di sviluppo anche in termini di software della blockchain è tutto quello che ne discende gli smart contract developer e quant'altro quindi quest'area molto tecnica infine secondo me c'è un'area che oggi è più difficile vedere ma è facile intravedere che riguarda un po' tutta la gestione del regolatorio che il metaverso si porterà dietro perché è evidente che il metaverso potrà avere anche delle ricadute pesanti in termini di cyber security in termini di privacy eccetera sono argomenti su cui noi abbiamo già sviluppato una sensibilità con il web 2.0 e io credo che questa sensibilità su questi temi si svilupperà e andrà ancora più avanti con il metaverso quindi c'è tutta una parte di competenze che riguardano il tema appunto della sicurezza della normazione esatto e della data protection che sicuramente andrà sviluppata questo come tendenza evolutiva noi ci crediamo tantissimo stiamo lato nostro costruendo delle squad primariamente in questo momento dedicate alla parte più vicina al nostro lavoro cioè quella esperienziale che cos'è il metaverso come possibilità di costruzione di una relazione con le marche su questo stiamo appunto costruendo questi team fatti di persone che provengono dalla strategia e dal content ma e che hanno l'obiettivo ovviamente di andare a raccontare ai nostri clienti quali sono le opportunità di sviluppo delle proprie marche nel metaverso ma non ci fermiamo a una parte puramente diciamo così nozionistica e informativa cerchiamo anche di sviluppare delle partnership che ci consentono poi di scaricare a terra questo studio questo studio che stiamo facendo sul metaverso e lo facciamo sia a livello di network per esempio WPP ha fatto una partnership con Epic Games che sono quelli che hanno fatto Fortnite Fortnite come sapete uno dei metaversi già esistenti lo facciamo anche a livello locale creando delle partnership con delle agenzie che hanno le competenze tecniche proprio per lavorare sulla blockchain per lavorare sugli NFT e quindi poi portare questa attività di evangelizzazione che in questo momento stiamo facendo con i clienti poi a uno stadio più pratico Quanta resistenza state riscontrando da parte dei clienti? Tanta curiosità questo sì poi è ovvio che come tutte le cose ai loro primi passi più che resistenza qualche dubbio lo genera molti come dicevo prima pensano che sia ancora una bolla però io su questo mi sento di dire tutti pensano a Second Life Second Life è venuta fuori in un momento in cui non c'era il terreno perché attecchisse oggi noi in Italia abbiamo 10 milioni di gamer che sono giovanissimi che già vivono nei metaversi quindi la differenza grossa la fa questo che c'è già il territorio proprio e la predisposizione ad abbracciare questa modalità che a noi sembra così diversa dobbiamo superare poi anche un discorso di ricambio generazionale perché poi è anche quello riuscire a unire chi giustamente ha lavorato in altri contesti e quindi fa più fatica a immergersi in queste nuove realtà chi invece si approccia o è già entrato nel mondo del lavoro ma che rimane viene ritenuto ancora un po' una nicchia quando invece con una giusta formazione potrebbe diventare qualcosa di più quindi per arrivare a conclusione effettivamente il tema del metaverso ci dà modo di ribadire quello che è emerso in questa puntata di le fonti Agora Marketing importantissima importantissimo per stare al passo con i tempi una giusta formazione oggi bisogna stare ancora correggimi se sbaglio più attenti perché parliamo effettivamente di influencer coloro che tramandano dei concetti e dei pensieri attraverso i social piuttosto che il web quindi di conseguenza bisogna selezionare anche le persone che ci danno le informazioni giuste altrimenti la formazione quindi ancora di più la formazione bisogna usare flessibilità ecco la flessibilità è una delle cose più richieste oggi sul lavoro sia da parte delle aziende che da parte di chi cerca lavoro assolutamente è un po' conseguenza della velocità con cui vanno le cose e della necessità di rinnovarsi in continuazione la curiosità che ha più sfaccettature più significati secondo me al di là di voler sapere una cosa anche riuscire a uscire dal nostro orticello per esplorare altri spazi che magari risultano un po' indigesti perché non è sempre facile però che poi possono darci tante altre possibilità assolutamente anche perché non si sa cosa c'è dopo dietro l'angolo tornando al metaverso forse anche per per chiudere un po' no tutti hanno il dubbio di cosa sarà il metaverso però ci sono già proiezioni che parlano di triliardi di giro di affari generato infatti ti stavo proprio chiedendo quanto diventerà più ampio il volume d'affari eccomi hai risposto le previsioni insomma lo hanno letto tutti sicuramente sarà un qualcosa di probabilmente molto più grande di quello che noi riusciamo a immaginare in questo momento perché ci crede se non hai curiosità è difficile arrivarci per primo quindi diventa fondamentale anche per poter essere poi i first mover no poterlo fare e comunque diciamo che se non basta la curiosità parlare di triliardi è una cifra che io non riesco neanche a contare no è impossibile è un po' la domanda fatica cosa faresti tu con un triliardi chi fa quanto è effettivamente anche molto meno è difficile quantificarlo insomma quindi visto che abbiamo parlato di sfide Francesco te ne lancio una io mi auguro di poterti rivedere presto per capire effettivamente se i passi avanti di cui abbiamo parlato in questo appuntamento si sono fatti e con quale velocità perché è importante anche questo quindi rinnovo ti rinnovo qui mentre stiamo ancora parlando l'invito a venirci a trovare a raccontarci grazie a Francesco Riccadonna general manager wave maker e alla prossima grazie mille alla prossima e naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti a questa nostra puntata di Le Fonti Agorare Marketing naturalmente restate su Le Fonti TV e ci vediamo alla prossima puntata al prossimo appuntamento arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti